Ciao a tutti, sono Samuel Attafessa, giornalista italiano, questo è il mio primo anno al Golden Foot e vedo che è una bella organizzazione, è un bel evento, siamo qua alla conferenza stampa in attesa di capire chi sarà il vincitore di quest'anno e vediamo, siamo in attesa, siamo in una bella organizzazione, è italiana, quindi sono contento di questo e adesso siamo curiosi tutti quanti di vedere chi sarà il vincitore, siamo curiosi di vedere cosa diranno ex conoscenze del calcio italiano come Marcel Desailly e perciò è anche Roberto Mancini che è italiano, adesso è Lina Russa, è crescito in Italia e siamo curiosi di vedere. Grazie. Prego.